bimbe guardate che cosa mi sono inventata per la sfoglia salata ho aperto il frigorifero e ho visto quello che c'era allora avevo un barattolo di pesto noi siamo soprattutto mio figlio golosissimi di pesto quindi che ho fatto ho diviso sempre in quella maniera quadratini ho messo mezzo cucchiaino di pesto anzi già mi sembra troppa in ogni quadratino e ora ci aggiungo un quadratino di mozzarella vedete ok più facile a farsi che a dirsi come si dice ok poi questi quadratini li chiuderò a fagottino e cercherò di dare una forma un pochino un po tondeggiante ok ok andiamo andiamo ok ok me ne va ne avanzata un pochino non l'aggiungo ragazze perché ho paura che si scioglie poi troppo e fuoriesce dal quadratino perfetto ora lo chiudo e in quella maniera e poi faccio l'albero nel frattempo vediamo che dice quello al forno ok lo vedete ragazze ho messo una stellina lì sopra ho fatto la base così e poi appunto sopra ho messo una stellina di pasta sfoglia con la formina l'ho fatta ok vediamo che succede ragazze guardate il mio primo alberello mi sembra abbastanza dorato vedete che bello dorato e quindi niente lo tiro fuori in modo che metto l'altro quello con peste mozzarella quello salato ma guardate che carino bello lucido le palline adesso metto vediamo zucchero a vele un po di cacao voilà un dolce fatto guardate che bello il mio alberello guardate raga mi sono rimaste delle scagliette proprio scagliette di cioccolata non è che le vogliamo buttare no sapete che facciamo le metto sopra anche perché la sfoglia ancora è calda e niente diamo un ulteriore sapore di cioccolata sono scagliette che mi sono rimaste quando ho spezzettato appunto la tavoletta di cioccolata e non la tavoletta che adesso pensate un'altra tavoletta ok ragazze benissimo ora una spolverata di qualche cosa ragazze sono ancora indecisa nel frattempo vi faccio vedere che l'altro quello salato col pesto guardate ragazze sembrano quasi gnocchi guardate che sono belli tondi quindi li ho messi al forno naturalmente ho spennellato sempre con il rosso dell'uovo e ora aspettiamo appunto che si faccia qui mi sarebbe piaciuto e poi mettere sopra un po di semi di sesamo però raga non ne ho e che devo fare non ne ho ragazze ecco l'altro albero pronto come vedete qua un pochino di un attimo che l'assaggio di pesto e mozzarella è uscito buonissimo ragazze allora quindi questo è quello salato poi vi faccio vedere quello dolce che devo ancora spolverare l'ho messo nel piatto tutto la carta forno poi vi faccio vedere un babbo natale oggi mio marito si è vestito proprio a tema per natale sarei scordato ora invece che capodanno si è messo il maione rosso allora raga poi vi volevo fare vedere che sto facendo un'altra cosa scusate perché ho la mozzarella allora ho preso la mia planetaria la mia bella planetaria rosa e voglio fare una crostata morbida al cacao vi faccio vedere che cosa ho messo intanto ho messo due bicchieri di farina perché ora aggiungerò un terzo bicchiere però di cacao eccolo qua cacao in polvere amaro quindi il composto verrà color cioccolata poi ho messo e due rossi d'uovo mentre i bianchi li ho separati perché li voglio montare a neve perché così in questo in questo modo l'impasto viene più morbido poi naturalmente un bicchiere di zucchero bicchiere di plastica di zucchero un bicchiere di olio di semi e una bustina di lievito pane angeli una bustina intera quindi sono 16 grammi perfetto quindi quando questo composto sarà pronto e farò appunto i bianchi li monterò a neve poi li devo incorporare piano piano appunto per non fare smontare e fare incorporare aria e poi voglio utilizzare questa forma appunto da crostata per fare la crostata morbida quando sarà pronto l'impasto quindi la crostata sarà pronta devo fondere questa cioccolata ne ho un'altra la fondo e faccio un appunto una ganache da mettere sopra allora dai cominciamo no 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 Grazie.